Beh, che dire, Chelsea 4, Juventus 0, rumba appunto, c'è poco da dire, i Blues asfaltano i bianconeri, di lungo e in largo, partita ma in discussione, gestita sapientemente, senza inventare granché, da un Chelsea che in serata normale comunque asfalta la Juve. D'altro canto, se il Chelsea lotta per vincere la Premier e se la Juventus probabilmente lotterà puramente per ottenere un posto in Champions, beh, si capisce nitidamente e oggettivamente come si stia parlando di due mondi differenti, d'altra parte quando si discute del Chelsea, quando si analizza questa squadra, si analizzano i campioni d'Europa in carica, che è vero, il Torino sono stati battuti di misura, ma all'interno di una gara pressoché perfetta in termini di difesa posizionale, e se non ti riesce a difesa posizionale contro il Chelsea, prendi le bastonate come è successo questa sera a Stamford Bridge. Di cosa vogliamo parlare? Io vi dico sinceramente che la prendo abbastanza con filosofia questa serata, perché tutti noi avevamo molto, molto chiaro il concetto che tornare a Torino in queste condizioni, con i tre punti, sarebbe stato pressoché un miracolo, e un miracolo era già caduto, quello dell'andata. Con questa vittoria il Chelsea mette sostanzialmente le mani sul primato il gruppo H, e quindi condanna la Juventus sulla carta ad avere un ottavo più complicato, perché può affrontare un lotto di squadre davvero considerevole e soprattutto massima espressione dell'élite internazionale. C'è poco da dire, c'è poco da stare qui a disquisire, è una Juve che sì, il primo gol lo subisce un po' così, probabilmente se fosse stato annullato non ci sarebbe stato nessuno scandalo per via del mani di Rudiger che poi porta i Blues con Chalouba a realizzare il momentaneo 1-0, però Juventus che si è fatta vedere dalle parti di Mendy una sola volta, con Alvaro Morata, dove è stato bravissimo Tiago Silva a salvare il potenziale gol bianco-nero e poi nel finale, a partita già ampiamente decisa, McKennie ha trovato le manone dell'estremo difensore dei Blues, quindi due occasioni estemporanee all'interno di un canovaccio tattico dominato e dominante per quanto riguarda il Chelsea, che resta una signorissima squadra, lo è a tutti gli effetti, ribadisco, lotterà probabilmente, non probabilmente, lotterà per vincere la Premier League e probabilmente la vincerà, ecco, questo volevo dire perché mi sembra che sia la squadra più attrezzata in Premier, in generale è una formazione che per esempio ha perso un cantè per infortunio nel corso del primo tempo e non ha patito, non ha patito minimamente, hanno tanti cambi, hanno tanti giocatori che anche dalle retrovie ti possono cambiare la partita o quantomeno te la possono far gestire e poi hanno un'identità tattica e tecnica pregevole, pregevolissima, frutto del lavoro di Tuchel che è stato sbeffeggiato all'andata, perché comunque Allegri da punto di vista tattico ha avuto la meglio, però oggi si è preso una grandissima rivincita, asfaltando la Juventus, asfaltando Allegri e mettendo le mani sul primato, nel gruppo AC. Credo che per valore assoluto, in termini proprio qualitativi, è normale che sia così, il Chelsea è infinitamente più forte della Juventus, la Juve ha fatto quello che doveva fare, il Champions, arrivare agli ottavi e ora avrà potenzialmente sulla carta una montagna da scalare, però sappiamo anche come questa competizione sia episodica, è chiaro che se uno guarda Chelsea 4, Juventus 0, non si può minimamente permettere di sognare neanche il più rosio tra i tifosi bianconeri, perché oggi semplicemente sono emersi i veri valori, semplicemente emerso il fatto che la Juventus se non riesce a chiudersi, se questa Juventus non riesce a chiudersi e a ripartire e a portare a casa sempre il clean sheet contro squadre come il Chelsea, se prende un gol rischia di prendere l'imbarcata, perché io, signori miei, dopo le reti di James e di Odoi, ho temuto seriamente che la Juventus potesse prendere l'imbarcata, che è un po' la presa, complice gol al 95esimo di Timo Werner, però dal 4-0 maturato io a un certo punto ho temuto che si potesse mettere molto peggio, tra l'altro leggevo delle statistiche che la Juventus erano anni e anni e anni, mi pare, dalla partita contro il Celta Vigo, che non prendeva 4 gol alla fase a gironi in Europa, questo sottolinea davvero come questa sia stata davvero, davvero una serataccia per una Juve che non è stata minimamente capace di tenere testa un avversario molto più forte. Io credo che oggi ci siano stati dei giocatori che hanno davvero dimostrato come non possano minimamente né giocare per la Juve, né tantomeno poter pensare che attraverso di loro ci possa essere un'evoluzione, vi faccio dei nomi. Rodrigo Bentancur, oggi asfaltato in lungo e largo, Bentancur che si pensava potesse mettere, tantomeno sulla carta oggi, ma almeno un po' di benzina, perché nelle ultime aveva riposato, tranne il nazionale che ha giocato, Bentancur disastroso, peggiore, voto 4 con lui, altro 4, Alexandro devastato da James, davvero io credo che al triplice fischio Alexandro la prima cosa abbia preso un moment, perché l'ho visto anche un po' sbalottato, l'ho visto un po' incerto, cioè la prestazione di Alexandro, al pari quella di Bentancur è stata la capricciante, ci aggiungo anche Rabiot, Rabiot primo tempo, orribile, poi nel secondo, semplicemente prende 4,5 mentre gli altri prendono 4. Si può salvare la palla magica di Locatelli per Morata, Locatelli che mi sembra che finché è stato in campo è stato quantomeno decente e si salva poi ovviamente anche Wojciech e Szczesny che ha fatto due parate bellissime e che ha evitato così che il passivo potesse essere molto ma molto più corposo, quindi credo che le uniche sufficienze si possano dare a Szczesny e Locatelli, il resto malissimo, 4 anche Chiesa, oggi Chiesa si becca anche 4 perché capisco che la partita sia difficile, capisco che se non c'è centrocampo non ti puoi inventare niente, però l'atteggiamento di Chiesa, voi sapete come io sia dello slogan in questa Juventus di hashtag Chiesa più altri 10, però l'atteggiamento di Chiesa oggi non mi è piaciuto, Morata ha avuto una sola palla ed è stato bravissimo a Thiago Silva a disinescarla e il resto ragazzi, io credo che questa prova non si possa ben minimamente analizzare dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, ma anche uno staff con i vari match Chiesa che si mette a ridere sta partita, ma da dove vuoi iniziare? Come quando prendi due al compito di latino, voglia stare lì a guardare frase per frase cosa avresti dovuto fare e cosa è sbagliato, questa è una partita che secondo me dimostra semplicemente come il Chelsea sia di un altro pianeta, la manifesta superiorità, poi immagino già qua sotto nei commenti le critiche da Allegri che oggi è giusto che se le becchi perché se vai a fare una partita di questo genere significa che al di là della forza del Chelsea le tue idee non hanno funzionato, non ha funzionato lo schieramento, non che il tecnico Livornese si potesse inventare granché, l'unica secondo me chiave di lettura che si può dare in relazione in questo match è più proprio a livello dell'evoluzione di Juve, cioè come pensare che continuare a giocare così, quindi in maniera mi difendo e riparto, possa da lunga, possa da lunga premiare. Può premiare determinate partite, se sei per esempio contro la Lazio, sei perfetto, porti il risultato a casa, vieni premiato, ma se contro avversari così forte poi vai sotto, questa Juventus non è in grado mentalmente, atleticamente, tecnicamente, tatticamente minimamente di ribaltarlo. Togliamo proprio il discorso Chelsea, che è un altro mondo, ribadisco, questa partita non va anche, c'è inutile analizzarla, il Chelsea è molto più forte di te, potrei giocare 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, quello che volete voi, il Chelsea oggi ti avrebbe piallato. Però la riflessione da fare è legata proprio alle lacune di questa Juve, perché questa Juve qua ha dimostrato in questa prima parte di stagione 2021-2022 di poterne dire a capo solamente quando non prende gol e riesce a farne uno, è difficile che ne faccia anche due, è caduto, la Roma con la Lazio, ma su due episodi, e quindi è questo che deve un pochettino spaventare, perché c'è tantissimo, ma tantissimo, ma tantissimo da lavorare e c'è anche da fare tanto sul mercato, perché ribadisco, ci sono giocatori che sono ampiamente sopravvalutati, che prendono ingaggi faraonici, che addirittura non prendono i big day del Chelsea, perché se io immagino i 7 milioni netti di Rabiot, faccio fatica a pensare che un centrocampista del Chelsea prenda gli stessi soldi, eppure però Rabiot li prende, eppure Rabiot fa questo genere di prestazioni, al pari di Bentancur, Alexandre, un altro che prende un bello stipendio. Insomma ragazzi, ditemi la vostra, vi leggo, ma non sono neanche, come posso dire, arrabbiato, o cose simili, perché quando viene asfaltato così, innanzitutto c'è da fare i complimenti all'avversario, poi bisogna prenderne atto e capire nel tempo dove mettere mano, come farlo, che atteggiamento proporre tatticamente, perché così, ragazzi, contro quelle squadre non si va a nessuna parte, ma in generale non solo contro queste squadre non si va a nessuna parte. Un abbraccio!